La giornata di ieri potrebbe essere una sorta di punto di svolta per l'azienda Rolli di Roseto. I lavoratori infatti hanno praticamente fermato la produzione per 20 ore con un'adesione altissima allo sciopero ed un presidio di fronte ai cancelli della fabbrica. Una protesta che ha smosso e non poco le acque in quanto l'azienda per il momento ha dichiarato che non cambierà il contratto ai 740 dipendenti. Il sindaco di Roseto, Enio Pavone, è intervenuto in veste da mediatore tra l'azienda e i lavoratori organizzando questa mattina un consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria presso la villa comunale di Roseto. Una tavola rotonda nella quale sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, i sindacati, i lavoratori e la cittadinanza. I dipendenti della Rolli di conseguenza hanno revocato la giornata di sciopero prevista per oggi e sono riusciti tramite una dichiarazione sottoscritta da tutte le parti a mantenere lo stato di agitazione ottenendo inoltre la decisiva apertura di un tavolo di trattativa per mercoledì 25 giugno. La situazione è ancora molto complicata, piuttosto complicata, però crediamo che l'unica possibilità che ci sia per uscire da questa situazione sia il confronto, sia la serenità degli animi, non acuire e non alimentare le tensioni che già ci sono per le preoccupazioni molto forti dei lavoratori e dell'intera città di Roseto perché Rolli è parte integrante dell'economia rosetana ed è l'azienda più importante che insiste sul nostro territorio. Noi abbiamo voluto questo Consiglio Comunale per fare in modo che tutti gli attori anche della politica regionale e nazionale possano prendersi le proprie responsabilità insieme all'amministrazione comunale, insieme ai sindacati e insieme all'azienda. Crediamo che un tavolo di concertazione con serenità possa affrontare la situazione e magari trovare appunto un punto d'incontro tra le legittime aspettative dell'impresa che deve continuare a operare a Roseto e quella legittima dei lavoratori avere il loro salario garantito.